ancora Crispi dopo la caduta del Crispi l'incarico di formare il nuovo governo viene affidato al marchese siciliano di Rudini nel quale consapevole del senso di stanchezza che la politica di prestigio perseguita dal suo predecessore aveva generato in larghissimi settori dell'opinione pubblica vado soprattutto a cercare un riavvicinamento con la Francia e a impostare una politica finanziaria di raccoglimento e di risparmio ma l'insabilità della maggioranza che lo sosteneva a brevi giorni del suo ministero e nel maggio del 92 il di Rudini dovette cedere il posto a Giovanni Giolitti faceva così la sua entrata sulla scena politica italiana l'uomo che per quasi un quindicennio ne sarebbe stato l'arbitro e l'unico uomo politico dell'Italia contemporanea la cui figura passa ad essere avvicinata a quella del grande Cavour poi ci si chiede come mai il Giolitti è passato alla storia e il di Rudini no ma questa è un'altra storia in effetti tale accostamento non manca di qualche fondamento Piemontese anchelli Giolitti auspicava un'Italia fatta a immagine e somiglianza del suo Piemonte con i suoi piccoli proprietari le sue casse di risparmio i suoi amministratori onesti e efficienti il suo patriotismo senza ostentazione intellettualmente era ancora fermo a quella concezione di una rigenerazione dal basso della società italiana da realizzarsi attraverso la diffusione della piccola proprietà e dei lumi dell'istruzione che come si è visto era stata cara anche a Cavour comunque e lo aveva apertamente dichiarato in un discorso elettorale del 1886 egli era nettamente ostile a una politica imperiale che comportasse forti spese militari la sua prima esperienza di governo fu troppo breve durò in tutto 18 mesi e troppo agitata perché egli potesse realizzare in qualche modo i suoi orientamenti politici il fatto saliente del momento fu infatti costituito dallo scoppiare della crisi bancaria che come si è visto CRISPR era riuscito provvisoriamente a tamponare l'opinione pubblica italiana si è stata sbalardita ai clamorosi crack dei principali organismi di credito ognuno dei quali svelava un'retrocena scarsamente edificante scusate di intrighi e di corruzione politica l'impressione fu enorme se dovete procedere alla nomina di una nuova commissione d'inchiesta che dopo 8 mesi di lavoro presentò una relazione dalla quale malgrado le ambiguità